Mentre la Procura indaga sulle presunte irregolarità nel sistema delle aste immobiliari celebrate presso il Tribunale di Ragusa ad opera di un gruppo di professionisti, avvocati e commercialisti legati anche a società che operano all'estero, c'è chi come l'imprenditore vittoriese Angelo Giacchi che di primo mattino si è recato davanti alla Banca d'Italia di Ragusa per continuare la sua battaglia, manifestare e denunciare le procedure finanziarie non controllate da chine a competenze che portano all'asta ingenti patrimoni. Intanto a vittoria l'assessore alla trasparenza Piero Gurrieri commenta le notizie circa gli esiti delle indagini condotte dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza su deleghe della Procura della Repubblica di Ragusa riguardando appunto le presunte illegalità nel sistema delle aste immobiliari. L'esponente della Giunta Municipale in primis esprime un plauso alla magistratura e ai corpi di polizia impegnati nell'operazione, al contempo lancia un appello all'opinione pubblica la massima attenzione riguardo alla vicenda. Auspica che si faccia piena luce su questo sistema che potrebbe avere dimensioni ancora più vaste. Per questo a nome di una comunità che vive un'esigenza di giustizia, l'assessore Gurrieri rappresenta il procuratore capo Carmelo Petraria la vicinanza dell'amministrazione comunale agli uffici della Procura e l'auspicio che si possa andare rapidamente a fondo per eliminare quello che viene definito un vero e proprio cancro. Giovedì intanto ha vittorio un importante momento formativo ed informativo per parlare di impegnorabilità della prima casa e della riforma della riscossione.